Un saluto a tutti e bentrovati su Scipionet e su questo numero di Scipionews, il bollettino delle news su Scipionet, appunto i server discord, formato, costituito, aggregato dai creatori di contenuti su Wargame italiani. Su Scipionet, come sempre, nei vari Scipionews ogni mese noi facciamo un piccolo bollettino di ultime novità del mese, che cosa è successo su Scipionet nell'ultimo mese, il mese tra novembre e dicembre, quindi intanto siamo dicembre, quindi buon quasi Natale, ci siamo quasi, beh sono successe come sempre diverse cose, cominciamo come sempre dalla chat generale, io ricordo anche che se volete, come primissima cosa, se volete iscrivervi su Scipionet, chi non lo avessi, chi vi desse magari questo video per la prima volta, chi non lo conoscesse, eccetera, nessun problema, chi volesse iscriversi a Scipionet, a Scipionet come semplice appunto usufruitore di contenuti, come membro del pubblico, come giocatore, come appassionato di wargame o anche semplice e curioso, trovate il link in descrizione al video che state vedendo in questo momento, quindi cliccate lì e riceverete direttamente l'invito per entrare nel server di Scipionet. Se siete invece un creatore di contenuti a vostra volta su wargame italiano o su gioco di simulazione o nell'ambito del vostro canale parlate anche di gioco di simulazione in maniera regolare, nessun problema, mandatemi un messaggio appunto su Discord, mi trovate Riccardo Masini blog, è abbastanza facile trovarmi, è abbastanza facile trovarmi e appunto creerò la vostra categoria, le vostre stanze, il vostro spazio personale su Scipionet in cui potrete incontrare il vostro pubblico, parlare con loro, i cui saranno automaticamente caricati i vostri video relativi al gioco di simulazione in modo che tutto quanto il pubblico di Scipionet e tutti gli studenti possano averne menzionato. Naturalmente il caricamento lo vediamo insieme, sarà automatico se il vostro canale appunto dedicato in maniera estensiva e regolare al gioco di simulazione, però abbiamo qui anche alcuni amici che fanno contenuti misti e che a quel punto cosa fanno? Semplicemente quando fanno un video su di un gioco di simulazione, su di un wargame eccetera, tranquillamente mettono il link anche con il tag everyone così tutti quanti vengono automaticamente notificati. A questo punto possiamo andare a vedere un pochino appunto il successo di quest'ultimo mese, nel mese tra novembre e dicembre, cominciato dalla chat generale, per chi lo conoscesse vedete questa è la struttura di Scipionet e qui abbiamo dei canali generali e qui abbiamo le singole stanze, le singole categorie dedicate ai singoli creatori di contenuti, beh allora in chat generale abbiamo fatto un po' di chiacchiere come ci piace fare su Scipionet appunto un po' di vari regolamenti, loco load tactical system, Charlie Scarpino e tutto quanto insomma e anche altri e anche altri amici e poi io qui ho messo, se fate altre iniziative anche voi creatori di contenuti o anche appassionati che ho messo il link chi volesse sabato ore 17, una cosa bellissima veramente prestigiosa solamente felicissimo di aver ricevuto l'onore di questo invito dal Georgetown University della Georgetown University Wargaming Society una mia conferenza, presentazione sul Wargaming sulla simulazione non lineare sabato 17 dicembre ore 18, cliccate sul link e lo vedete in ma poi dopo qualche giorno, questo è il link di Eventbride, quindi lo vedrete in diretta e potete anche porre domande al termine della presentazione, rispondiamo ovviamente tutto in lingua inglese, ma comunque dopo un po' di tempo sarà disponibile sul canale youtube della Georgetown University, tranquilli che vi mando il link, non vi preoccupate, e poi un po' di foto come sempre di Wargame, come piace a noi, mi ero scordato una cosa, mi ero scordato una cosa, il benvenuto, il benvenuto agli amici che appunto, ecco qua, Minked e Civa, che appunto ci sono segnati dopo l'8 novembre scorso, quindi altri amici che appunto ci raggiungono qui su Scipione. Allora, cominciamo un po' invece a vedere, ah e anche in chat generale, la primissima cosa di questo periodo era questa bella intervista ad Andrea Angiolino, fatta a Luca Copies and Games 2022, dove Andrea ha presentato la sua mostra su Alex Randolph, e come dico sempre, per chi vuol sapere il più suo gioco, la bella intervista ad Andrea Angiolino è sempre, sempre, sempre un ottimo punto di parte. E Andrea si riconnette anche a questa conferenza che trarò a Georgetown, perché parlerò molto del lavoro di Andrea, del suo concetto di complessità nascosta, veramente fondamentale, fondamentale. Andiamo a vedere un pochino le singole stanze che in questo mese, i singoli creatori di contenuti che in questo mese hanno un po' arricchito la scena del wargame italiano, che appunto Scipionet ha catturato, il nostro bot Lelius ha catturato, il primo è il wargame Physicist, eccolo qua, wargame Physicist, che appunto, dopo aver fatto una bellissima, un bellissimo video di gameplay su Svolk a ottobre, a novembre ci ha regalato un unboxing del monumentale Stellar Horizons, Stellar Horizons è un gioco che io, no, mi interessa, mi affascina, però, so che c'è molta roba, e questo unboxing è fatto molto bene, ma anche una partita completa di giocatore a Kanban EV, che comunque ha un suo aspetto simulativo molto forte, perché è un gioco sulla produzione automobilistica, in questo caso di EV electric, vai vehicle, cioè dei veicoli a motore elettrico, ma EV porta anche con i meccanismi del gioco, molto ibridato con l'euro, però molto interessante nell'ambito dell'organizzazione della produzione, quindi wargame, ma non solo, come sempre ci piace fare, poi è un altro grande, ovviamente, protagonista, il Giannizio Nero, che, Mauro Faina, qua, è inutile dirvelo, veramente la sua solita sparata, pletora di video, ricordo sempre, l'Elius raccoglie un po' sia i podcast, che magari è la versione solo audio, che i video, audio e video di Mauro, ma ovviamente la sua produzione è notevolissima, è assolutamente notevolissima, andando, eccolo qua, continua la sua serie, è continuata la sua serie su Almoravid, ma poi è proseguito, e dopo un flash su Enemy Action Karkov, entriamo nel nuovo wargame che ha esaminato in quest'ultimo mese, Mauro, e Stalingrad Pocket 2, classicone della MMP, la SCS, veramente un grande classico. Il video della bellissima asta di Piana delle Orme, dell'evento di Casus Belli, poi di nuovo Almoravid, continuiamo avanti con Stalingrad Pocket, è sempre la collaborazione di Mauro e gli amici di Casus Belli con Storie di Guerra e Guerrieri, quindi con la rivista diretta da Guglielmo Duccoli, e quindi una rivista di storie, di divulgazione storica, però anche uno spazio dedicato al wargame, al board wargame, molto importante e molto bella, e poi Mauro ci riporta un po' anche con i classici, Ancients, della 3W, vedete veramente tante cose molto interessanti, e continuando, proseguendo, 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 arriviamo anche ad un esperimento che lui ha fatto, di rifare la battaglia di Peggina con Catafract, ecco, questo con il sistema delle Great Battles, quindi veramente tante cose interessanti. Dopo Mauro, dopo il genizzero, il non wargamer, con Aspettando il genizzero nero, il podcast di Marco Mengoli, che finalmente, bravissimo Marco, veramente ci fa piacere, poi me li ascolterò con calma, date scaricateveli, perché Marco Mengoli, come la spiega lui la storia, che lo dico io, veramente non lo spiega nessuno, perché veramente è molto molto bravo, e comincia la sua serie sulla Guerra del Peloponneso, e sono lì, io domani, io vado qui, stasera me li scarico, a seguimento Spotify, domani me li sento in macchina andando a lavoro, perché veramente è una cosa bellissima, le puntate, le puntate di Marco, veramente da non perdere, e parliamo della Guerra del Peloponneso, forse è vero Padre Tucidide, Padre Tucidide, Padre della Storiografia, sì, prima un po' come Parmenide, in filosofia, la Padre della Storiografia moderna, sono veramente ansioso di vedere cosa ci dirà Marco sulla Guerra del Peloponneso, sicuramente parliamo anche di Pericles e di tanti altri giochi dedicati, Peloponneso, un war dedicati alla Guerra del Peloponneso, sono assolutamente sicuro. E poi, visto che ci siamo, o, salutiamo anche gli amici di Warpedgeucosa, vi dicevo che appunto è un canale che fa board game in generale, però, appunto, quando mette, adesso non è successo l'ultimo mese, ma già ottobre, settembre, eccetera, quando è stato, quando mettono dei contenuti dedicati ai board game, vedete, li linkano con everyone, e quindi tutti quanti si mettono l'anno tipo che ha, quindi, questo è molto, molto importante, perché è bello, perché è un'unione di più mondi, di più mondi del gioco, e anche di più tipi di simulazione, poi di questa cosa ne riparleremo, perché c'è forse qualche novità, poi ne riparleremo, secondo me anche abbastanza breve. Per quello che riguarda vlog, per quello che riguarda vlog, cioè, il sottoscritto, eccoci qua, che cosa è successo in quest'ultimo mese? Beh, come sempre, è abbastanza roba, dell'ultimo ciclino, abbiamo parlato di Emox, il Sacrifice, gioco meraviglioso di Herman Lathman, di cui parlerò tantissimo nella conferenza la Yorktown, Gettysburg, ma molto non lineare, carte, frizione, eventi speciali, veramente tanti, un working completamente diverso dal solito, e con una componentistica da favore, doppia mappa allargata di Rick Barber, non vi dico altro, è il capolavoro di Rick Barber, purtroppo, una delle sue ultime opere, sono la sua opera omnia su Gettysburg, già soltanto piazzarla, è uno spettacolo, quindi veramente bellissimo. Poi, come sempre faccio, per questi vlog estesi, tre video in italiano, ma anche un video in inglese, for our international, questo che ci sia. Poi, continua la serie su cultura ludica, che è molto apprezzata, in questo caso, parlavamo di Andrea Angiolino, Che cos'è un gioco da tavolo? Cultura ludica è la serie, nell'ambito del contenitore mini-blog, quindi video un pochino più brevi, ma condensati, è la serie dedicata ai libri sui giochi, a chi vuole non solo giocare ai giochi, ma anche analizzarli in maniera più approfondita, tramite libri, tramite saggistica, tramite autori che parlano dei giochi, e appena uscito, Andrea Angiolino, che è un gioco da tavolo, fate vedere questa recensione, il libro è veramente piccolo, sintetico, conciso, ma come sa fare, Andrea, una densità di concetti, una chiarezza di esposizione, veramente eccezionale, completissimo, assolutamente consigliato, poi andatevi a vedere la recensione, è un libro fantastico, e sì, parla tanto di voi, e Andrea Angiolino, se Andrea Angiolino parla di Wargame, e quindi deve parlare, dai. Poi, il mio video, che è stato anche questo molto apprezzato, sono molto felice, è stato un po' un esperimento, ma un block boxing, in cui ho un po' esposto, come avvicinarsi al materiale, dei giochi della library, una folla di battles, perché è una serie che in realtà, non è così difficile, ma fa paura un po' a tanti, perché tu apri una scatola, ti trovi una marea di roba davanti, fogli, foglietti, carte, mappe, pedine, eccetera, vi ho dato un po' un orientamento, che una volta che superate queste cose, capite, intanto che c'è una ricchezza dei contenuti, tra l'opterica, ma poi c'è regolamento. Veramente, infine, un 10% in più, 10-20% in più, rispetto alla Polo Starbato, che è un classico, assolutamente accessibile a tutti, ma vi permette, campagna per campagna, battaglia per battaglia, di esplorare tutto il periodo polonico, e tutta l'arte della guerra nazionale. Un'opera eccezionale. La vita di Kevin Zucker, Kevin Zucker ci ha dedicato la vita, capirete perché. Guardatevi il suo video, perché guardate, anche se non avete intenzione, di prendere al libro, una polo elitmata, guardatelo, capire anche, quali livelli estremi, di contenuti, che può arrivare, il porto, e preparati. Poi, la mia serie, anche questa apprezzata, mi fa molto piacere, come faccio un blog, quindi, un po' i miei consigli, su chi volesse diventare, creatore di contenuti, magari quello con i miei, sociali più net, in tint, con l'attrezzatore, in questo caso, parliamo poco dell'attrezzatore tecnica, una puntata molto attesa, un po' una panoramica, ringrazio anche, Tukajou, sì, Tukajou, che ha avuto modo, di incrociare, in una delle sue dirette, bellissime, che mi ha anche ringraziato, perché ho visto questo video, con i sottotitoli, in inglese, gli è piaciuto molto, appunto per la panoramica, che ho fatto, thank you, Tukajou, Tukajou, maestro, assolutamente, quindi, veramente per me, è stato veramente bellissimo, avere i suoi complimenti, poi, da per gioco YouTube, 40 anni e passa, di comunicazione ludica, sul Wargame in Italia, la, bellissima, registrazione audio, un po' garibaldina, ma fantastica, che abbiamo fatto, con gli amici, Marco Donadoni, Mauro Faina, Pier General Federico, Lorenzo Sartori, e, veramente, tanti altri amici, al Milano Wargames 2022, sono stati veramente felici, di organizzare questa, eh, tavola tonda, chiacchierata, nel parco, con gli amici, poi capirete perché, sentitela, guardate, è veramente, una delle cose, posso dire, più belle, più belle, proprio emotivamente, che abbia fatto mai, per, per questa mia, mh, opera di comunicazione, o dire, questa chiacchierata, sull'evoluzione, di come si parla, dei giochi in Italia, andatevelo a vedere, è, veramente, sono contentissimo, sono felicissimo, di averla fatto, poi, vlog su, Spanish Eagles, Eagles, of the, of the Empire, eh, questa serie, che, per me è misconosciuta, ma è veramente, molto, molto bella, tra l'altro ringrazio, l'amico, Riconcerbi, che, ricordato, guarda che io me la ricordavo, non sono tra quelli, che se ne erano scusate, se lo so, tra l'altro, lui, ha anche messo, sul suo sito, e sul suo, sul gruppo, Valgame, Valcon, un bellissimo, Fai, con la traduzione delle regole, in italiano, un pochino, anche, rielaborate, insomma, risintetizzate da lui, bellissimo, e sono d'accordo con lui, è veramente, un sistema fantastico, sia, nella parte, polemica, che è anche l'antico, che è anche il, il, guerra civile americana, seconda metà dell'Ottocento, ma anche Fornovo, non so se si è elaborato, ma anche quelli prima, appunto, antico, e secondo l'Ottocento, guerra civile americana, alcuni sono un po' criticati, per come sono le mappe, che non sono proprio il massimo, però quest'idea, eh, quando la divisione topografica è fatta bene, però deve avere delle aree che seguono, i contorni del terreno, che se ci sposti, la pedina, se ci sta dentro, si può orientare in certa maniera, se non ci sta, non ci si può orientare, quindi questo libro, B e tridimensionale, veramente, estremamente inolativo, estremamente bello, in un sistema che però, anche questo è molto semplice, perché poi si va, si bacca su Dice, vedi quante informazioni riesci ad attivare, e in un paio d'ore, ti fai tutta una giornata di get, tranquillamente, ma anche, ma anche di più, veramente un gran sistema, eh, mi piace, mi ha fatto molto, molto piacere, eh, parlarne, avrete visto, non c'è tantissima roba rispetto a un po' a mia stanza, mi dispiace, ma veramente ho tante cose in arrivo, entrano come sempre alla scadenza di Natale, quindi, eh, però poi dopo recuperiamo, non vi preoccupate, poi comunque c'è altra roba, prima delle fede dell'anno che arriva, non vi preoccupate, e poi la chat, la chat di vlog, dove io ringrazio, eh, gli amici, come sempre, ecco, questi sono i modi che a me piace, che a me piace vedere, che utilizzate, Scipionette, appunto per, non solo per vedervi vivere, eccetera, che è bellissimo, sicuramente, ma anche per interagire, tra, tra giocatori, con i creatori di contenuti, qui abbiamo un po' di domande, appunto, su, Most Fearful Sacrifice, SPQR, Simple Great Battles of History, Panzer della GMT, Pathos Best, American Tank Ace, veramente, bellissime cose, oh, mi diceva della Stroman, perché non fai una serie su, Panzer, come hai fatto su Local Tactical System, e la volevo fare, però poi adesso sto pensando, ma se invece facessi una serie, su, la Library, e Napoleonic Battles, per il prossimo anno così, perché questo serve anche, per provvedere tutti quanti, i principi fondamentali, del Wargame Classico, sono un po' indeciso, perché Panzer, è veramente una cosa del cuore, però, la Library, di Napoleonic Battles, una volta che avete imparato quella, avete il meno 80% del Wargame, Ex-Encounter Classico, quindi potrebbe essere, più utile dal punto di vista espositivo, vabbè, poi ne parleremo, ne parleremo, un po', un po' tutti quanti, io, diciamo, veramente c'è tanto ancora da parlare, questo è l'ultimo, Scipio News del 2022, io, vi faccio gli auguri, comunque si sente, ci si vede in giro sicuramente, però vi faccio gli auguri, per il 2023, per i auguri di buone, buone feste, buon Natale, buon tutto, veramente, buon tutte le feste religiose, non, che vi possono venire in mente, tanta felicità, tanta serenità, tanto divertimento, a tutti, questo era Scipio News, e noi, ci salutiamo qui, e ci rivediamo, come sempre, su Scipio Net, ciao! Ciao! Grazie a tutti.